Benvenuti su Zio Orso, il canale per i makers. Io sono Mauro e questo non è il solito video, infatti oggi non farò nessun progetto. Più che altro vi voglio spiegare il motivo della mia prolungata assenza e voglio farvi vedere una piccola clip nella quale vi si coglieranno alcuni progetti che ho fatto in questo mese durante la mia assenza e che quindi vedrete anche nei prossimi video. A maggio c'è la festa internazionale dell'infermiere ed essendo io un membro, un consigliere dell'ordine degli infermieri della mia città, sono stato molto impegnato nell'organizzazione degli eventi correlati a questo evento, a questa festa. Oltre a questo sono stato molto impegnato anche nei corsi di aggiornamento, infatti il personale sanitario è obbligato, ma è anche un piacere, ad aggiornarsi annualmente e in questo mese diciamo che io ho coperto la quasi totalità degli aggiornamenti che dovevo fare quest'anno, quindi è stato un bel lavoraccio e oltre a questo sono andato in ferie e durante le ferie mia moglie ha pensato bene di farmi pitturare casa e come molti di voi penseranno sarebbe stato bello fare un video sulla sulla pittura di casa, però è già abbastanza impegnativo pitturare una manzarda, perché io vivo in una manzarda senza dover preoccuparsi di dove posizionare la telecamera, controllare se poi le riprese vengono bene, quindi diciamo ho fatto qualche ripresa nella clip che vedete a fine del video per farvi vedere insomma il prima e dopo il risultato di quello che ho fatto, ma non ho fatto proprio un video dedicato alla pittura. E poi questa è una notizia, voi sapete che mi chiamo zio orso, perché mia nipote mi chiama zio orso, però presto non sarò soltanto zio orso, ma sarò anche papà orso e quindi diciamo che i preparativi anche per questo evento qui mi portano via un po' di tempo e quindi niente, è piacevole comunque organizzare l'arrivo di un figlio, però è anche molto impegnativo. Quindi non vi nascondo che forse prossimamente capiteranno dei periodi in cui mancherò un po', soprattutto per questo motivo qui, però mi impegnerò al massimo per avere una certa costanza. Nei prossimi giorni vedrete delle nuove collaborazioni, dei nuovi progetti. Oltre a tutto questo finalmente ho usato il buono che grazie a voi ho tenuto su Amazon e quindi ho preso qualcosa per il laboratorio, qualcosa che molti di voi mi hanno sempre consigliato di acquistare e ho fatto anche una recensione che vedrete prossimamente nei prossimi video. Cosa aggiungere? Vi lascio la clip e rimanete connessi perché nei prossimi giorni, entro pochi giorni, uscirà la recensione sull'acquisto che ho fatto su Amazon con il vostro bonus. Al prossimo video, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!